tredicesima edizione del narnia festival nona medaglia del presidente della repubblica 55 concerti spettacoli ed eventi ad ingresso gratuito che ci vedranno su narni fino al 28 luglio tanti gli appuntamenti che spaziano nei vari generi non solo musicale ma anche danza teatro flamenco opera lirica tutti presenti al narnia festival perché il narnia festival è un festival giovane e pieno di energia e che vuole abbracciare un largo pubblico avremo anche spazio per il grande teatro con l'attore sebastiano somma inoltre ci sarà spazio per la musica pop con il cantatore povia uno dei cantatori più interessanti della nostra generazione spazio anche alla satira con federico palmaroli oscio le più belle frasi di oscio è un personaggio televisivo che ha milioni di visualizzazioni sui social altra innovazione sono gli incontri con l'artista degli incontri che avverranno appunto con i personaggi principali del festival dopo i loro spettacoli sempre al teatro manini sarà un'occasione anche per degustare dei vini e dei prodotti del territorio perché il narnia festival vuole anche fare promozione del territorio e dell'umbria ringrazio l'azienda a2a main sponsor per l'evento con sebastiano somma per l'evento con sebastiano somma per l'evento conégio video